Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti, e lasciare un mi piace, grazie. Il 17 novembre scorso, a Roma, Barbara Farella, insegnante di scuola primaria, è stata vittima di un furto che va ben oltre la perdita materiale. La sua borsa è stata rubata, e al suo interno si celavano due braccialetti e alcune preziose foto di sua figlia Dalila, tragicamente scomparsa a causa della leucemia nel lontano 1998, quando aveva soli tre anni. L'appello della madre, intitolato, Un piccolo messaggio al tuo cuore, è un toccante tentativo di raggiungere il cuore dell'autore del furto, a te che hai rubato la mia borsa, vorrei fare un appello o meglio farlo al tuo cuore. Non hanno importanza i soldi, le carte di credito, i documenti che dovrò rifare, ma all'interno c'erano due piccoli bracciali da neonata in un sacchettino di mia figlia Dalila, che è volata in cielo per colpa della leucemia ed era l'unico ricordo che avevo di lei. Barbara, visibilmente sconvolta, ha manifestato il suo dolore, così mi sembra che si sia allontanata ancora un po' di più da me. Le immagini della figlia, poche ma preziose, rappresentano un legame insostituibile per la madre, che ha condiviso, nel portafoglio avevo 200 euro, quelli il ladro li ha avuti, allora forse almeno le foto e i braccialetti potrebbe riportarmeli, sono lunghi appena 5 centimetri, da neonati, cosa se ne fa? L'appello si conclude con un accorato, io sono Barbara e lei è la piccola Dalila, sottolineando la disperazione di una madre in cerca dei suoi unici e inestimabili ricordi. La speranza di Barbara è che il ladro possa reconsiderare il valore emotivo di ciò che ha rubato e scegliere di restituire quegli oggetti che per lui potrebbero non avere alcun valore, ma che per lei rappresentano un legame inscindibile con la sua amata figlia defunta. Grazie per aver guardato, iscriviti al canale, e attiva la campanella per ricevere notifiche sui nuovi video.